Andiamo, muovaci, fate passare! Ti prego, aiuto! Ispettore capo John Luthor. È questo che sei, vero? L'uomo che sa tutto sulle persone come me. Tu credi che potrei evitare di essere quello che sono? Mi chiede per passare! Mi chiede per passare! Tu non hai nessuna idea di cosa vuol dire vivere tutta la tua vita senza poter mai esprimere quello che sei per paura di quelli come te. E adesso tu sei in prigione. E devi vedere cosa succederà quando comincerò a divertirmi come un matto. Ora mi vedi.